Io sono ottimista, lo sono sempre stato, credo che l'Italia ha fatto già tanto. Devo dire, come dico sempre, io sono orgoglioso di essere italiano perché l'Italia ha fatto con Lampedusa prima, ma con tutta la Sicilia e tutta l'Italia adesso, nell'affrontare questo fenomeno. Non abbiamo eretto muri mai, non abbiamo mandato indietro nessuno, non abbiamo mai messo un filo spinato, siamo stati una porta d'ingresso, una porta che Lampedusa rappresenta con orgoglio e veramente con grande importanza perché noi siamo il primo posto davanti alla Libia ed è una porta sempre aperta e lo sarà sempre, malgrado queste polemiche che ci sono ultimamente, polemiche sterile. Io dico che Lampedusa è e sarà sempre un'isola di accoglienza, lo ha detto anche il sindaco, fino alla morte. Io spero che tutto questo finisce quanto prima e sono veramente convinto di questo, anche perché vedo che a livello europeo si sta muovendo qualcosa. Per me questo sicuramente è una risposta che deve dare l'Europa. L'Europa deve interessarsi di questo fenomeno perché è un fenomeno europeo in effetti e quindi il fatto di cominciare a parlare di modifica di quello che è il Trattato di Dublino è un interesse più particolare da parte dell'Europa che deve gestire questo fenomeno, non è più un fatto emergenziale ma è un fatto strutturale, quindi ce ne dobbiamo fare una ragione e quindi dobbiamo pensare ad approcciare questo fenomeno con, io dico, razionalità, intelligenza e anche lungimiranza perché io ritengo che queste persone per noi rappresentano un'opportunità, non un problema, non un pericolo. Per me questa è la mia speranza e sicuramente presto troveremo una soluzione a tutti.